Gli attacchi centrali non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. La nostra telecronaca termina qui. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.